Sorriso eterno, dolcezza di vivere, tolleranza religiosa, spirito aperto e dinamismo economico. Paese della sua vita squisita, dell'infinita cortesia e dell'innata gentilezza. In un territorio di più di 500 mili kнения, vivendo circa 63 milioni di abitudini. il espo dell'etate è il rio Rama IX, che è molto bene visto per la popolazione. La moella è il Bạc, un fronte d'agire circa 27 Bạc. Per quanto riguarda la religione, 93% della popolazione è bouddhiste. la capitale della Thaïlande 702 milioni di habitanti 10% della popolazione e oggi il centro spirituale, culturale diplomatiche, commerciale ed educative della Thaïlande Welcome to Thailand La scuola di Thaïlande Chiusa a vittimicare per poi che è così. Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.